Sulla nostra regione insiste un campo di alta pressione supportato in quota da un promontorio subtropicale, il quale determina condizioni di assoluta stabilità, anche se in presenza di nubi stratificate a causa di aria umida che affluisce da sud-ovest. Le temperature si mantengono su valori abbondantemente al di sopra della media stagionale. Per domani, sabato 18 aprile, avremo cielo poco nuvoloso ovunque con rari passaggi di nubi stratiformi, temperature in ulteriore aumento con valori massimi prossimi a 25 gradi centigradi su alcune località interne, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente occidentale, mare quasi calmo. Per domenica 19 cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura lungo la dorsale appenninica ma senza il rischio di precipitazioni, temperature in ulteriore aumento nei valori minimi della notte, stazionari alle massime, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. Nel corso della giornata di lunedì 20 aprile una depressione afro-mediterranea si porterà sul tirreno centro-meridionale, determinando un moderato peggioramento su tutto il centro-sud. Sulla nostra regione saranno possibili precipitazioni di debole e moderate intensità, con temperature che tenderanno a diminuire, riportandosi entro martedì su valori normali per il periodo. Non avremo piogge diffuse, bensì si tratterà di un rapido passaggio seguito oltretutto da correnti orientali. Da mercoledì 22 aprile l'alta pressione riprenderà il possesso del Mediterraneo, riportando nuovamente condizioni di stabilità. Vorrei soltanto aggiungere che non devono meravigliare questi sbalzi di temperatura, poiché la primavera non rappresenta la stagione della stabilità d'oltranza. Una primavera risulta normale proprio quando è caratterizzata da tempo instabile, con passaggi anche bruschi dal caldo al freddo e viceversa. Per maggiori dettagli sull'evoluzione meteo della prossima settimana, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it